Non a caso Storia di un'anima Teresa di Lisier, Ancora, pagina 63 Il giorno in cui la Chiesa benedisse le spoglie mortali della nostra mammina, ormai del cielo, il buon Dio volle darmene un'altra sulla terra e volle che me la scegliessi liberamente. Eravamo tutte e cinque riunite e ci guardavamo con tristezza. C'era anche Luisa e vedendo Celina e me, disse Povere vicine, non avete più la mamma. Allora Celina si gettò tra le braccia di Maria dicendo Ebbene, tu sarai la mamma. Io ero abituata a imitarla, tuttavia mi voltai verso di lei, madre mia, e come se il futuro avesse già squarciato il suo velo. Mi gettai tra le sue braccia e gridai E allora per me la mia mamma sarà Paulina. Commento Suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo detta di Lisier al secolo Marie-Françoise Thérèse Martin 1873-1897 Carmelitana francese Proclamata santa da Papa Pio XI Thérèse ha abbandonato la ruota delle incarnazioni attraverso la religione cattolica. Non a caso è stata una delle guide che si sono a lungo manifestate presso un grande cerchio italiano.